Ma sinceramente credo che io come tanti da me si aspettano sicuramente molto e quindi non è mai facile mantenere le aspettative però credo che abbiamo tante possibilità positive, abbiamo secondo me anche tanto lavoro da fare e quindi sinceramente non è mai facile in questo momento soprattutto della stagione capire cosa possiamo fare. Sicuramente il nostro target, il nostro obiettivo è quello di essere sempre tre top rider, negli ultimi due anni devo dire che io sono sempre stato lì e quindi spero anche quest'anno di riuscire ad essere a ridosso dei migliori e perché non migliorare. Il rapporto con i team è assolutamente speciale, ottimo, c'è un'atmosfera bellissima nella squadra, nel box e devo dire che meglio di così non poteva essere. Faccio la vita credo di un ragazzo normalissimo della mia età, mi alleno tutti i giorni, quindi vado in palestra, vado con la moto, ogni tanto esco con la mia fidanzata, con i miei amici e credo di essere comunque oltre al lavoro, o meglio allo sport che faccio, comunque sono un ragazzo come tutti di 27 anni. Sicuramente ho una bella nozione di adrenalina anche shaman, devo dire che è stata un'esperienza fantastica, perché non mi aspettavo assolutamente che una montagna russa potesse fare questo effetto, poi soprattutto legato alla realtà abituale, devo dire che è qualcosa di incredibile che non avevo ancora mai provato prima d'oggi, sono veramente molto entusiasta.